Ben trovati dal Tg della mobilità, domani dalle 10 alle 19 torna via libera il percorso ciclopedonale di 15 chilometri, le strade chiuse per l'evento dedicato alla mobilità sostenibile sono comprese tra Centro, Esquilino, Tiburtina, Termini, Pinciano, Trati, Porta, San Sebastiano e Appia Antica, modificate 35 linee di bus e tutti i dettagli e gli aggiornamenti su romamobilita.it, controlli anti-covid della polizia locale e di tutte le altre forze di polizia per il rispetto delle norme sanitarie a partire dall'uso delle mascherine anche negli spazi aperti, i controlli vengono effettuati anche nei luoghi del trasporto pubblico, controlli sono previsti anche nella zona della Movida e anche questa notte saranno attive le zone a traffico limitato di Trassevere e San Lorenzo dalle 21.30 alle 3, Centro e Testaccio dalle 23 alle 3. È tutto per questa edizione.